Io darò un taglio leggermente diverso da quello che avete nella brochure, semplicemente perché sono meno esperto negli aspetti più economico-politici del gioco e quindi del rapporto tra gioco e tempo, ma mi concentrerò su alcuni presupposti di carattere antropologico della questione del gioco, perché ritengo che una riflessione più di fondo su questo tema possa essere estremamente utile poi se è necessario fare un passaggio agli aspetti più normativi, cioè domandarsi in che senso si può limitare o si deve limitare un gioco, che tipo di politica deve essere fatta per governare questa esperienza del gioco. Allora, intanto voglio fare una premessa. Il tema del gioco emergeva già ieri nella relazione dell'Avvocato Bordone, soffre un retaggio culturale in Occidente che è una specie di rimozione. Voi pensate che il primo grande libro sul gioco dal punto di vista filosofico è il libro di Johan Oitzinga, Homo Ludens, che è del 1938. Prima del 1938 non abbiamo delle trattazioni filosofiche, cioè sistematiche, della questione del gioco. E io credo che questa rimozione non sia solo un problema di carattere morale o moralistico, sia piuttosto legata all'ambivalenza dell'esperienza del gioco. Cioè l'esperienza del gioco è l'esperienza in cui l'uomo si confronta con un elemento della sua vita, che è l'illimitato, che è un elemento estremamente difficile da manovrare, da governare. Se vogliamo un po' quello che è successo anche per la follia. Avrete presente i grandi lavori di Foucault sulla follia, nascevano proprio dal far emergere che la follia era un rimosso, perché la follia toccava l'assenza di limite e quando l'uomo entra in relazione con l'assenza di limite si trova in estrema difficoltà a fare un discorso. Allora, in questa breve chiacchierata io cercherò di dare qualche elemento di analisi filosofica o antropologico-filosofica sul gioco, limitandomi a tre aspetti che in qualche modo sono già anche emersi, ma che mi sembra sia importante mettere insieme e far interagire. Il primo aspetto è il rapporto tra gioco e realtà. Emerso come il problema della ludopatia, sia la perdita di senso di realtà, la commistione tra il venir meno di quello che era il tema della separatezza del gioco della vita di tutti i giorni. Il secondo aspetto di cui vi parlerò è il rapporto tra gioco e desiderio, perché basta chiedere a un bambino, giocare è bello? Quindi il gioco è un'esperienza estetica, ha a che fare col piacere, ha a che fare col godimento, ma proprio perché ha a che fare col godimento, è estremamente complesso dire quale deve essere la nostra relazione anche normativa nei confronti del gioco. E poi un terzo aspetto, il rapporto tra il gioco e il limite, in particolare rispetto al gioco di Alea, al gioco dell'azzardo, laddove il gioco tocca appunto questa illimitatezza, questa esperienza della spinta all'infinito di un'azione, che diventa estremamente difficile da governare. Farò poi alcune osservazioni finali, conclusive, su quella che io chiamo la cultura del gioco e la necessità di sviluppare un accesso più ricco culturalmente alla questione del gioco. Comincio quindi su questo aspetto del gioco realtà, che ho intitolato è solo un gioco qualcosa di più. Perché proprio nel libro di Oitzinger, Homo Ludens, del 1938, vi dicevo, c'è un'ambivalenza nella sua analisi sul gioco. Per un verso, Oitzinger dice, il gioco ha alcune caratteristiche fondamentali, se vogliamo tre caratteristiche fondamentali, la separatezza tra tempo e spazio del gioco e tempo e spazio della vita quotidiana, quindi il gioco crea una spazio-temporalità che sta a parte rispetto alla vita di tutti i giorni, la gratuità, il fatto che il gioco è libero da un interesse immediato, il gioco non è produttivo, nel senso dell'effettuazione di qualche cosa che poi abbia, diciamo così, un vero effetto di trasformazione della realtà. E poi il terzo elemento è la presenza di regole, anche non codificate, cioè il gioco è un insieme di regole che generano un ordine particolare. Queste caratteristiche, in fondo, sembrano dire che il gioco va letto in una logica contrappositiva tra ciò che è gioco e ciò che non è gioco, tra la vita normale e il gioco, oppure, un grande altro tema che è emerso, tra il gioco e il lavoro, perché il gioco è improduttivo, il lavoro invece è improduttivo. C'è però un altro elemento nella sua analisi che sembra in contraddizione con questo aspetto, cioè la sua tesi di fondo. Il libro di Homo Ludenser di Oitzinger è famoso per la tesi secondo cui la cultura, tutta la cultura umana, è ludica, nasce e si sviluppa in forma di gioco e non sarebbe comprensibile senza i giochi. Nei giochi e con i giochi la vita sociale si riveste di forme, dice lui, sopra biologiche, che conferiscono alla vita dell'uomo la sua qualità umana. Detto diversamente, l'uomo è un vivente caratterizzato dal gioco e senza il gioco non potrebbe essere ciò che è. È Homo Ludens, è appunto l'uomo che gioca. Dicevo, si tratta di un'ambivalenza significativa a questa idea che il gioco è separato dalla vita e nello stesso tempo il gioco è tutta la vita culturale, quindi si espande in tutta la vita culturale, perché mi sembra esprimere questa tensione che c'è proprio nell'esperienza del gioco, la tensione tra una separatezza e una pervasività. Il gioco non è la vita, ma il gioco è tutta la vita. Allora, proviamo a analizzare questi due elementi molto velocemente. La questione della separatezza e fino a che punto è oggi possibile vedere questa separatezza. Intanto la questione della separatezza ci mette subito di fronte a una parentela molto interessante dal punto di vista storico-culturale tra il gioco e il rito. Il gioco ha le stesse caratteristiche antropologiche del rito e in particolare del rito religioso, perché il rito religioso allo stesso modo del gioco è separato come spazio e tempo dalla vita quotidiana, ha una sua gratuità, il culto non è immediatamente la produzione di qualche cosa di utilizzabile, ha delle sue regole interne. l'esperienza quindi di separazione e il rapporto con il rito ci mette di fronte a quell'elemento che Oitzingham esprime come tesi fondamentale che il gioco è un'esperienza antropologica originaria, per cui connota ciò che noi definiamo come realtà umana. È un elemento fondamentale della cultura e quindi pervade un po' tutte le esperienze. Quindi il gioco è qualche cosa di più di una semplice diversione, è qualche cosa di più di un semplice intrattenimento che va lasciato all'ambito del passatempo, perché ha delle caratteristiche che ci aiutano a comprendere l'umano nella sua complessità. Tuttavia vorrei proprio fare una veloce riflessione su questo rapporto tra gioco e realtà, come è andato cambiando, cambiando, come è andato mutando, scusate, dopo il libro di Oitzingham, perché Oitzingham ha a che fare con i giochi tradizionali, con le varie forme tradizionali. Secondo me c'è un'alterazione che nel frattempo è avvenuta, che è stata prodotta da quella che si è soliti chiamare la svolta tecnologica. Nel senso che i giochi oggi sono pervasi da elementi tecnologici e questo ha creato un ulteriore indebolimento della separatezza tra gioco e realtà. Potremmo dire che come c'è stato dal punto di vista del rito religioso una forma di secolarizzazione, tecnicamente la secolarizzazione è il passaggio da una concezione per cui il rito è qualche cosa di separato dalla vita, di lontano dalla vita, di diverso, di sacro, così c'è stata grazie alla tecnologia una secolarizzazione del gioco. Cioè il gioco ha perso molto di più di quanto non fosse un tempo la propria separatezza dalla realtà. Vi do solo alcuni spunti, alcuni esempi di questo. Pensate all'infinitezza del gioco, al gioco prolungato che è possibile grazie a internet, grazie ai videogiochi, al videogioco portatile. Uno dei grossi problemi educativi che abbiamo oggi, chi ha famiglia lo sa, è dover fare i conti col fatto che i nostri figli passano il loro tempo a giocare ai videogiochi. Quindi si è perso questa distinzione per cui il gioco ha un suo luogo specifico, ha un suo tempo specifico, quindi uno spazio separato. Si è persa questa distinzione tra finzione del gioco e realtà anche dal punto di vista della comunicazione. Io penso all'esperienza dell'infotainment. L'infotainment è quella commistione che si è creata nei mezzi di comunicazione di massa a partire dalla televisione tra l'informazione vera e propria e l'intrattenimento. Anche qui stiamo magari parlando di temi molto seri e lo commistiamo, lo uniamo, lo sovrapponiamo a momenti di divertimento, di gioco. C'è poi un altro aspetto che è ancora più radicale. Vi faccio solo degli esempi per dire come oggi si è trasformato questo discorso del vale, l'ambiguità o comunque l'ambivalenza che diceva Oinsinga tra pervasività e separatezza. ma oggi questi due elementi si sono trasformati notevolmente. Dicevo, un terzo aspetto molto interessante è quella che è la perdita di differenza tra il gioco e il lavoro, quella che viene chiamata gamification del lavoro, la ludificazione del lavoro. Infatti, se notate, non ti intervisto ma ti chiuso solo, nella prima sessione è venuto fuori che nell'ambito terapeutico ci sono casi, esperienze ormai costanti di additività del gioco che a sua volta si riflette su una sovrapposizione nel tempo di lavoro della pratica di gioco. Quindi faccio un po' da... Cerco di cucire le varie sessioni. E la seconda cosa che ci sta narrando il professor Lingua trova riscontro nelle altre osservazioni che sono emerse nel corso dell'introduzione in Solvence Fest e in parte anche nella prima sessione cioè la natività del debito e quindi la ludopatia l'abbiamo chiamata matrice dell'indebitamento come forma del tutto inedita rispetto al passato di acquisizione del debito a fronte del fatto che ci sono clienti tecnologici che non praticano i luoghi spaziali esterni ma che sono individualmente quasi non sensibili di fronte a una macchina di fronte ad un cellulare o di fronte ad un'utenza individuale è difficile riaggregare attorno all'elemento spaziale questa tipologia di debitore ecco peraltro solo per chiarire ulteriormente perché questo aspetto della ludificazione del lavoro è un aspetto su cui stanno lavorando in molti io ho presente per esempio un lavoro di un giovane filosofo italiano Gilles Gressanich che sta lavorando appunto su questa questione della commissione tra gioco e lavoro ma non soltanto nel senso che si occupa del tempo del lavoro giocando ma della trasformazione del gioco in lavoro esistono delle forme neocapitaliste o neoliberali di trasformazione di tentativa di trasformazione di determinati meccanismi della fatica del lavoro in gioco per esempio l'attribuzione di punteggi il creare una competizione all'interno della squadra di lavoro ed è chiaro che in questo caso salta completamente la distinzione classica tra gioco e lavoro e salta anche quello che è il modo classico con cui la filosofia politica ha interpretato questa questione perché in questo caso il lavoro viene attraversato da un desiderio che non è imposto dall'esterno cioè non ci sono regole esterne che ti fanno lavorare di più ma è come se il gioco facesse sì che tu lavori di più produci di più perché ti piace produrre di più vedete quindi come è complesso poi governare questa cosa qui anche da un punto di vista normativo allora questo per dire come questo primo punto il rapporto tra gioco e realtà si è molto modificato un secondo aspetto che volevo mettervi in evidenza che emergeva già da questi il rapporto tra gioco regole e piacere perché la struttura interna del gioco ha a che fare col desiderio ieri si diceva l'avvocato sempre avvocato Bordone faceva riferimento al fatto di in qualche modo cercare di come la nostra società tende a nascondere alcuni elementi o a imbellettare alcuni elementi pensate per esempio all'incapacità di dire se il fumo fa bene o fa male all'uso sui pacchetti delle sigarette di queste immagini allo stesso modo avviene per il gioco cioè tutto ciò che ha a che fare con il desiderio la sessualità le varie forme di espressione del desiderio toccano sempre questo problema del limite e di come governare questo limite come imporre o non imporre il limite e questo per il gioco vale in modo particolare perché il gioco ha un rapporto con le regole originario ogni gioco ha un sistema di regole che sono arbitrarie ma imperative esse definiscono che cos'è un gioco e che cosa è non gioco vale a dire il lecito e il vietato ma in una forma molto particolare perché sono regole tecnicamente si direbbe pragmatiche cioè interne al gioco stesso non sono regole imposte dall'esterno cioè io nel momento stesso in cui gioco rispetto le regole e se non rispetto le regole semplicemente non gioco più semplicemente non sto più al gioco semplicemente esco da quell'esperienza particolare del gioco quindi noi nel gioco facciamo un'esperienza facciamo l'esperienza di un rapporto positivo con le regole un rapporto positivo tra la libertà e la norma e questo è un elemento paradossale che dovrebbe farci molto pensare perché il gioco ha dei limiti interni ma è molto difficile che accetti dei limiti esterni perché è un'esperienza dell'illimitato regolata al proprio interno e qui tocchiamo questo problema del godimento del piacere del gioco che è un altro elemento che mi interessa sottolineare il gioco si attrae perché ha dentro di sé l'infinito del desiderio di nuovo per chi ha figli pensate quanto è difficile interrompere un gioco è molto difficile sottrarre un bambino dal gioco perché la tendenza del ludico è avere un rapporto difficile con il limite e a spingere il gioco a continuare quindi questo aspetto secondo me va tenuto in conto quando parliamo del gioco patologico come si sta facendo in questi giorni perché mettere un limite al gioco è sempre un limite esterno è soltanto esterno al gioco cioè un'obbligazione una prescrizione soltanto esterna al gioco rischia di essere un'arma spuntata tutta la storia occidentale è attraversata da questo da questo problema di mettere dei limiti al desiderio pensate alla grande tradizione repressiva rispetto all'esperienza della della sessualità ma sono un po' tutti i desideri dell'uomo che sono stati considerati nella nostra tradizione questo anche in relazione a una interpretazione ambigua del cristianesimo sono stati considerati come qualcosa da limitare ma proprio la storia la storia culturale ci insegna che la risposta repressiva dall'esterno non è la risposta più adeguata questo non toglie il fatto che poi ci si trovi di fronte a situazioni in cui normativamente sia necessario farlo io sto facendo un discorso di comprensione dei meccanismi interni del gioco di comprensione della valenza antropologica che questo ha perché il gioco come dice l'Adolto è un mediatore di desiderio cioè porta dentro di sé una soddisfazione e permette di esprimere il proprio desiderio ad altri per esempio nei giochi collettivi c'è una transizione un commercio di desideri attenzione il rapporto tra gioco e desiderio fa emergere ancora una volta quelli che sono i rischi interno al gioco perché il gioco è un'esperienza estetica un'esperienza del piacere della piacevolezza ma contiene anche al proprio interno dei rischi e il rischio più grande secondo me è appunto questo del farci toccare con mano che cos'è l'illimitato che cos'è il ciò che non ha forma l'esagerato e qui vengo al terzo elemento che volevo sottolinearvi ancora una decina di minuti terzo elemento che volevo sottolinearvi lo prendo da un altro classico testo sul gioco che è il libro di Roger Caillois che si intitola e anche tradotto in italiano i giochi e gli uomini la maschera e la vertigine questo libro è molto interessante perché fa un'analitica del gioco cioè analizza i diversi elementi le diverse categorie le diverse modalità del gioco ed è interessante secondo me per capire qualcosa di più della forma più radicale del gioco che è l'azzardo cioè il giocare con la sorte il giocare con la fortuna si diceva prima Caillois fa una distinzione fondamentale esistono due tipi di giochi l'agon che è il gioco di competizione quindi è un gioco intersoggettivo relazionale io e te competiamo siamo in competizione per qualche cosa ci sarà un vincitore e un perdente ma questo vincitore e questo perdente potranno dichiararsi vincitori e perdenti perché hanno sviluppato una performance e sono stati più o meno bravi e poi un secondo tipo di gioco che è invece l'alea quest'ultimo comprende tutti i giochi che si fondano contrariamente alla GON su una decisione che non dipende dal giocatore e sulla quale il giocatore non può fare minimamente presa nell'alea si sfida la fortuna quindi attenzione Caillois è molto attento nell'esprimere questa distinzione perché alea e agon rappresentano degli atteggiamenti che sono opposti ma sono anche simmetrici perché una qualche forma di agonismo nei confronti della fortuna nei confronti della sorte c'è come anche nei giochi di agon può esserci un elemento di fortuna vediamo pensando alle partite di calcio a qualsiasi gioco collettivo però è importante questa distinzione perché ci mette di fronte due parole che sono estremamente significative per capire quell'altro rapporto che dicevo prima tra gioco e realtà nel senso del gioco e lavoro gioco e performatività o performance che produce qualche cosa che produce qualche cosa di diciamo così predeterminato legato a una finalità i due termini che mi sembra siano importanti da rilevare sono da una parte il merito che ha a che fare con l'agon e dall'altra parte appunto la fortuna caio dice questi giochi e questi due tipi di giochi rispondono entrambi a una stessa legge e questo è molto interessante la creazione artificiale fra i giocatori di una condizione di assoluta uguaglianza che nel mondo reale è sempre negato agli uomini allora nella gong questo si vede molto bene il merito sportivo mentre noi dal punto di vista sociale abbiamo magari delle difficoltà a dire che il merito è ciò che vale davvero nella competizione nella competizione sportiva evidentemente a meno che ci si trova di fronte al baro e tra l'altro il baro è un paradosso molto interessante nella questione del gioco perché il baro è colui che interrompe il gioco continuando a giocare non gioca le regole del gioco però dicevo escluso il caso del baro nel gioco il merito ci dà questo senso di assoluta uguaglianza ma c'è un elemento di assoluta uguaglianza e questo vi chiedo un attimo di attenzione perché è estremamente importante c'è un elemento di assoluta uguaglianza o di bisogno di creare assoluta uguaglianza anche nell'alea cioè nell'alea nello sfidare la sorte c'è questo bisogno di compensazione della situazione che noi stiamo realmente vivendo una compensazione positiva un bisogno non è solo la vittoria alla lotteria è proprio un bisogno interno di giocare con l'infinito di giocare con l'illimitato di giocare con il caso questo è l'altro grande tema dell'alea il caso ciò che non è controllabile che però ci mette tutti allo stesso livello vedete il senso di uguaglianza che dà il gioco e che esprime molto bene la dimensione di desiderio interno che noi abbiamo e di limitatezza di questo desiderio perché questo gioco d'alea secondo me è quello dove emerge di più questa dimensione antropologica di fondo che mi interessa mettere in evidenza cioè che il gioco ha a che fare con l'infinito con l'illimitato e con la caratteristica di fondo del desiderio perché il desiderio rispetto al bisogno differentemente dal bisogno è sempre qualche cosa che non ha compimento il nostro desiderio non si conclude nella sua soddisfazione non è il bisogno per cui ho bisogno di mangiare mangio sono soddisfatto è vero o avrò ancora desiderio di mangiare un'altra volta però il meccanismo si chiude il desiderio non chiude mai il proprio meccanismo il desiderio ha questa struttura infinita per cui non si desidera mai abbastanza ed è questo l'elemento per cui è molto difficile mettere un limite al desiderio esterno solo un limite interno solo giocando sulla dimensione pedagogica delle regole del gioco si capisce si può dare un reale un reale orizzonte umano antropologico al limite del gioco tenete a mente questa dimensione del rapporto tra gioco e desiderio perché diversamente si rischia di non comprendere né quell'elemento che dicevo all'inizio cioè il fatto che oggi il gioco si è secolarizzato ed è diventato vita quotidiana per cui noi non abbiamo più gli strumenti per distinguere spazio temporalmente che cos'è un gioco ci troviamo commisti troviamo mescolato insieme ciò che è realtà e ciò che è finzione sia nell'informazione sia nel lavoro sia nella vita sociale si potrebbe fare per esempio un'analisi di questa dimensione della ludificazione della politica l'estetizzazione della politica che abbiamo vissuto nel dopoguerra e in particolare a partire dalla fine degli anni 70 cioè la politica è diventata sempre di più spettacolo cosa vuol dire che abbiamo che si è consumato quel rapporto di separatezza di sacralità del politico si è consumato quello che i filosofi politici chiamano il teologico politico cioè quell'elemento sacrale adesso svestiamolo di tutti gli aspetti religiosi ma anche nel gioco c'era questa c'è questa dimensione di sacralità proprio nel fatto della separatezza se tu consumi questa cosa diventa quella dimensione di pervasività del gioco diventa estremamente difficile da manovrare ed è questo il problema di fronte a cui ci troviamo oggi da un punto di vista antropologico fondamentale ed è questo il problema su cui la politica su cui il lavoro dei giuristi deve riflettere per arrivare a un discorso normativo che non sia semplicemente né di pura repressione né di dimenticanza dei rischi di quello che è il gioco e così arrivo alla conclusione proprio lavorando su questi elementi antropologici del gioco e in particolare sul rapporto tra gioco e limite gioco e illimitatezza io penso che sia oggi estremamente importante la creazione lo sviluppo di una cultura del gioco di una cultura del gioco più che non di un'etica prescrittiva del gioco perché la tendenza che noi abbiamo un po' in generale oggi è quella di creare delle etiche di sviluppare delle etiche prescrittive pensate quanti comitati etici ci sono in giro per il mondo ormai qualsiasi cosa che facciamo dobbiamo creargli un comitato etico che rischia spesso di essere una foglia di fico un modo per dire abbiamo una coscienza etica però poi l'impatto reale di questi comitati etici alcune volte è un'arma spuntata ma perché perché l'elemento etico deve essere preceduto da una riflessione antropologica e da una formazione antropologica del cittadino da una formazione culturale e qui ritorna ciò che dicevamo all'inizio noi abbiamo in qualche modo una retratezza culturale rispetto alla comprensione del gioco perché il gioco o nella scuola il gioco è molto utilizzato ma poco riflettuto ci è data poca occasione di riflettere a che cos'è il gioco il gioco è utilizzato perché pedagogicamente è evidente che i giochi sono di utilità estrema perché Vygorsky lo diceva dal gioco noi apprendiamo l'uso delle regole lo apprendiamo nel modo migliore non come qualcosa che ci viene imposto ma qualcosa che emerge dall'esperienza stessa quindi io credo in conclusione che sia estremamente importante un lavoro sulla cultura del gioco come lavoro sulla comprensione delle dinamiche del gioco per esempio abbiamo visto la ludopatia emerge dall'annullare il contatto con la realtà della vita quotidiana ma domandiamoci questo annullamento di contatto con la vita quotidiana è soltanto una questione psicologica individuale o è un fenomeno sociale che andrebbe studiato nella sua complessità se sono così tante le esperienze in cui la separatezza tra gioco e vita normale o vita brutto usare il termine vita normale ma vita quotidiana si sono moltiplicate all'infinito cioè le generazioni che le generazioni digitali che hanno vissuto il gioco solo come gioco praticamente solo come gioco digitale come videogioco che tipo di rapporto avranno con il principio di realtà pensate la bellezza del gioco non tecnologico era che noi potevamo trasformare chiunque qualunque bambino che non conosceva i giochi tecnologici poteva trasformare qualsiasi cosa in un gioco ci ricordiamo da bambini che un oggetto qualsiasi poteva diventare un'arma poteva diventare e la separatezza e la separatezza di questa esperienza del gioco dalla vita di tutti i giorni era che quell'arma era in realtà un giocattolo la separatezza sta nel fatto che il superamento della separatezza starebbe nell'esperienza che veramente i bambini giochino con le armi tra l'altro ci sono dei romanzi che lavorano su questa cosa qui dove si utilizza l'arma come fosse un giocattolo ma in realtà si sta uccidendo allora questa cosa si è persa oggi o si sta perdendo e questo produrrà inevitabilmente un diverso rapporto con la realtà quindi io credo che diffondere una riflessione sulle dinamiche interne del gioco sia estremamente importante penso anche che questo sia compito sicuramente della scuola ma sia compito anche di forme di discussione pubblica come potrebbe essere appunto il caso di Insolvent Fest che ci danno la possibilità di riflettere sulla cultura del gioco prima di arrivare poi e per arrivare poi in modo più consapevole a un governo della questione del gioco e un governo dell'eccesso di che che meravigli Grazie.